CASTELLO FIABESCO Oh no, è ora di andare dalla dottoressa Oh no, che fatica Però me ne devo andare Ciao dottoressa Ciao Barbie Barbie, ti vedo stanca Ma non ti preoccupare, dai facciamo l'ecografia Ok, vieni qua Così Finalmente mi riposerò Ok Guarda, il bambino sta benissimo Per oggi abbiamo finito Siediti Già devo andarmene? Ma sì, certo Mi sento così stanca sempre E poi questo respiro Aspetta Barbie Cammini stranissimo Cammini stranissimo Che hai? Ah, io ti devo dire una cosa Devo sedermi Fammi indovinare Hai preso troppo peso? Sì, hai ragione Devi pesarti ogni giorno E cominciamo adesso Allora, cosa vedi? Allora, devi fare la ginnastica ogni giorno Perché se no Perché se no diventerai ancora più grassa Certo Certo, Aya Ciao Barbie Ci vediamo la prossima volta Ciao Aya E grazie mille 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E adesso così 1, 2, 3, 4 Mi alleno già due settimane Vorrei controllare il peso Vediamo un po' Evviva, ho perso 10 chili Oh, è ora di andare dalla dottoressa Aya Ho le novità Barbie, ma ti vedo così sportiva Sei così bella Grazie Ho perso 10 chili facendo la ginnastica Perfetto Sarà più facile partorire Anche voi ragazzi Non dimenticate di fare la ginnastica E con voi ci vediamo molto presto Ciao 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 ragazzi